ci troviamo in diretta 31 real time on format che racconta il siciliano tagliato barbara russa le seguono la barbara? non c'è da commentare, vergognatevi, si segue la barbara, allora andiamo quando il siciliano si trova davanti alla tv, bravo zio faccia zanni, faccia zanni, faccia zanni, inizio non lo capisci niente siete venuti per in Italia? per esempio siamo a mangiare una pizza, qual è la pizza per lei? per me una capricciosa, per la sposa una capricciosa mentre ci troviamo a mangiare sushi, secondo lei è più per i sushi lui o lei? secondo lei? lui, secondo lei? lei, bravo, il sushi va più per lei, per la sposa sushi un piatto giapponego andrea giacomo giacomo andrea signori, si parte con l'eleganza guardate le volte in parte elegante ma c'è qualcosa che offrisca tutto questo perché lo zio per l'occasione si è presentato col fiorellino di fuori e guarda quello, quello è nascosto questo vado con l'eleganza di sfilata e lo mostri dal pubblico da pazzo signori, chiesti che si pegghi, si pegghi quando vanno a casa uno con l'altro l'altro johnny bellissimo, guardate il fiorellino dello zio che sta a rappresentare la giornata uè 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 anche andiamo belli, proprio belli però non ho capito, questo signore è così bello sei singolo o no, perché è bellissimo famiglia, non ho un po' sbagliato Ziro il momento più emozionante della funzione religiosa? ah, e sì, e sì e sì, qual è la domanda signora? le promesse le promesse quindi, cosa hanno promesso? di amarsi bravi per tutta la vita bravi andiamo con quel momento io Eugenio prendo te e Giorgia come mia sposa prometo di una... prenda la mella io prendo te come la mia genna Eugenio prendo te e Giorgia ma bravo, ma questo è senso, bravo può facciare la sposa vai 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 ce la ne lo do io e stiamo a raccontare come nacque la coppia è stato lui che ha conquistato lei? o io a lui? lui lui, lui ha conquistato lei guarda lui signori, tutto nacque con lui che lei interpreta il nipote che conquistò lei che era una coniglietta va bene? quindi lei fa la coniglietta e lei fa un falco che la conquistò quindi i coniglietti sono una, due, tre, quattro saltate i coniglietti vai, bravo, bravo salti un po', salti lei è il falco, sventoli con rabbia vada con l'urno che cazzo non sa come fa un l'anguilo? ah, non lo so che cazzo vuoi? scusami questo è un anacotango, sventoli con rabbia sventoli, vada con l'urno la mamma perché signora? perché mamma? perché Giorgia è mia figlia perché l'ha ricevuta dalla? cicogna benissimo andiamo con quello sguardo chi per prima ha visto la cicogna dei due? papà o mamma? signori, guardate lo sguardo signora, vada con l'occhiale